Man mano che passano i giorni, cari amici, ci si sta avvicinando sempre di più e noi ci prepareremo sempre di più automaticamente alla fine del reality show anche per quest'anno per quanto riguarda il grande fratalo VIP. Quindi, conto alla rovescia per il GF. Eh sì, perché ci si avvicina alla serata conclusiva, quella che andrà a decretare per forza di cose il nome del vincitore ufficiale o della vincitrice ufficiale. Ma prima di questo immancabile appuntamento, i geffini continuano intanto a giocarsi il tutto per tutto per poter riuscire ad arrivare intanto come finalisti, poi si penserà a vincere. Per i più curiosi, ecco i dati del sondaggio di chi sarà il primo finalista della settima edizione di questo grande fratello VIP. Chi sarà il primo finalista del GF VIP 7? Questa settimana sono ben sette i geffini spediti dritti in nomination. D'altronde si sa che nelle fasi finali del gioco, la competizione si rende ancora più avvincente. Per chi se lo fosse fatto sfuggire, ecco la lista dei concorrenti in nomination, ovvero Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi, Micoli Incorvaia, Davide Donadei, Oriana Marzoli e Nikita Pelison. Ma per non pensare al peggio, la domanda del sondaggio di questa settinana è volta in positivo. Sulla pagina ufficiale del reality show di Alfonso Signorini, il pubblico a casa è stato chiamato a rispondere alla domanda nuda e cruda. Chi vuoi in finale? Tutto questo ricordando anche i nomi dei concorrenti rimasti in gara, ovvero Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Luca Onestini, Micoli Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelison, Oriana Marzoli. Stando a quanto si apprende dai primi dati del sondaggio, la prima concorrente che al momento sembra essersi aggiudicata il primo posto tra i vipponi preferiti da spedire dritto in finale sarebbe proprio Oriana Marzoli che si aggiudica una percentuale del 36% pari a 1.611 voti. Seguita da Antonella Fiordelisi, con il 26% pari a 1.161 voti, e ancora Nikita Pelison con il 22% pari a 1.001 voti. Edoardo Tavassi invece viene spedito al quinto posto con un 12% pari a 537 voti, e poco più giù la fidanzata Micoli Incorvaia con il 2% pari a 73 voti. E ancora ultime due posizioni occupate da Alberto De Pisis e Davide Donadei con una percentuale pari all'1%. Insomma, i dati del sondaggio spolverano la sfera di cristallo e lascerebbero presagire grandi colpi di scena al GF VIP 7. Il gioco è ancora aperto quindi non resta che seguire il programma per capire chi proseguirà e chi invece sarà costretto a salutare i compagni di avventura.